Napoli mette a nuovo i suoi percorsi pedonali verticali, un patrimonio urbanistico di 135 scale e 69 gradonate che legano le alture della città al territorio del centro antico e alle altre zone di pianura. L'iniziativa Tu scendi dalle scale valorizza quattro itinerari di superba bellezza che declinano dalle colline del Vomero e di Capodimonte verso il centro, le scale della Principessa Iolanda, il Moiariello, il Petraio e la Pedamentina che a partire dall'8 dicembre saranno lo scenario di eventi culturali, visite guidate, laboratori e degustazioni. Il tragitto che conduce dal piazzale di San Martino fino a via San Biagio dei Librai attraversando la Pignasecca e Piazza del Gesù, una linea di quasi 3 chilometri, diventa così una delle più lunghe vie pedonali d'Italia. Un pezzo di azione dell'amministrazione per sostenere il riprendersi la città, in questo caso a piedi. In questo senso questo programma, così anche un po' natalizio con questo nome accattivante, è anche un insieme di percorsi, di cibo, di salute e pezzi paesaggistici straordinari di questa città. In questo senso è coerentissima con le politiche dell'amministrazione di ridurre il traffico privato e restituire spazi sempre più riqualificati a tutti i cittadini e le cittadine napoletane. Dall'8 di dicembre all'8 di gennaio faremo una serie di iniziative per favorire questi percorsi pedonali che fanno parte della storia di Napoli. Un modo per riscoprire un'altra città che i napoletani conoscono e che vorremmo far conoscere anche a un pubblico più vasto. L'iniziativa è svolta in collaborazione con Lega Ambiente e col Comitato per il recupero delle scale di Napoli.